Riccardo, abbiamo già detto con quelli che ti hanno preceduto del netto predominio dei bianconeri che però non si è tramutato in tre punti. Tra l'altro a questa sagra del gol sbagliato o a questa sagra delle parate del portiere della Coiopelli hai partecipato anche te nel secondo tempo, hai fatto una bellissima azione quando sei riuscito a smarcarti saltando, se non sbaglio, addirittura tre giocatori in sequenza con una percussione centrale, però davanti al portiere non sei stato freddo come avresti dovuto essere. Sì, penso che l'unica cosa che abbiamo sbagliato oggi è di non essere stati all'altezza davanti al portiere. È nulla, non c'è altro da dire perché la partita, come hai detto te, è stata un predominio dal primo i 30 secondi fino alla fine della partita che poi dopo, con un rosso, zambarda, infortunato è stato quasi normale abbassarci così tanto e rischiare di prendere il gol. Due punti che lasciamo, però prendiamo tanta consapevolezza dei nostri mezzi. Mi sembra che soprattutto per quello che riguarda il pressing alto, pressing anche portato da voi centrocampisti nel primo tempo abbiate fatto il bello e il cattivo tempo cioè praticamente direi che è stata l'arma migliore della Massese questo pressing portato sia da Igbineweka in prima fase poi da Iuri e da voi centrocampisti sia il tuo compagno di reparto che te avete rubato tantissimi palloni. Direi che da questo punto di vista la Massese mi sembra pronta. Sì, è una cosa che ci chiede il mister. È fondamentale nel nostro gioco cercare di stare alti il più possibile e mettere più pressing alle squadre perché giocando alti, recuperando palla là, poi dopo ovviamente siamo più vicini alla porta. E allora faccio i complimenti a Francesco che insomma insieme a lui e a centrocampo mi trovo bene e riusciamo a tenere alta la squadra. Siete assortiti bene? Sì, mi trovo bene, mi trovo bene, devo fargli i complimenti. Nulla, non ho altro da aggiungere perché poi oltre a me e a Francesco devo fare complimenti a tutta la squadra perché anche oggi abbiamo dimostrato di essere forti e purtroppo non è andata come speravamo. La prossima volta cercheremo di fare meglio. Io ti conosco da quando sei più basso di me e questo la dice lunga perché adesso mi sorpassi di parecchi centimetri. Una volta facevi anche gol. Adesso quanto dovremmo aspettare per vedere una tua rete? Eh. Una volta giocavi proprio quasi da punta, eh? Ti ricordi? Mi ricordo, mi ricordo. Eh, speriamo il prima possibile. Già domenica non sarebbe male, no? Oh, ecco, facciamo una bella promessa. Domenica tutti quei gol che ci siamo mangiati. La promessa è che la promessa che io posso fare è che tutte le partite saranno come questa. Non come questa al pareggio ma come impegno, cattiveria e gioco. Questa è l'unica promessa che posso fare a tutti. E per il gol speriamo perché se non lo faccio io e lo fa qualcun altro va bene lo stesso. Grazie, perfetto. Grazie a te.